Ben trovati, scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti di Tracking News. Con Mercedes saranno 4 anni straordinari, grazie ad una rata certa di 200 o di 150 euro. Per 4 anni infatti non ci sarà fermo macchina né inconveniente o guasto di cui Mercedes-Benz non si farà carico e che non sia già compreso nel prezzo. Una rata tutto incluso dove per la prima volta compresa nel prezzo non c'è solo la manutenzione ordinaria ma anche quella straordinaria. A partire dal 10 ottobre è disponibile la terza campagna Mercedes-Benz Italia Van dell'anno 2016 che ha come protagonisti lo Sprinter e il Vito. Il focus della comunicazione è la presentazione della rata che per 200 euro dà la possibilità al cliente di acquistare uno Sprinter e della rata che per 150 euro consente al cliente di acquistare un Vito. In entrambe le rate è incluso il Service Contract Complete che, incluso nel prezzo, consente di comunicare i 4 anni di copertura per eventi ordinari e straordinari che dovessero occorrere sui veicoli con copertura fino a 80.000 km per Vito e 120.000 km per Sprinter. Ecomondo fa il boom con 105.574 visitatori nelle 4 giornate, oltre 11.000 quelli stranieri, numeri da record anche per le iniziative in programma, oltre 1.200 imprese su 113.000 m2 della Fiera di Rimini, centinaia di seminari aperti dagli stati generali della Green Economy con 1.000 relatori, 550 buyer protagonisti di 4.500 incontri d'affari e 520 giornalisti accreditati in sala stampa, il tutto ovviamente amplificato dai social network. Integrandosi con i sistemi di gestione elettronica del cambio del motore del tuo track, il Predictive Power Train Control è un prezioso alleato per i tuoi viaggi che consente un notevole risparmio di carburante. Con la semplice attivazione del tempo, Matt, il PPC interviene riconoscendo la direzione e la topografia del tuo percorso, definendo in modo predittivo i momenti in cui effettuare i cambi di marcia. In particolare, il funzionamento del PPC può essere così riassunto, salite ripide in corrispondenza di una salita, il PPC infatti decide se occorre scalare marcia o aumentare la velocità per evitare il cambio di marcia, ottimizzando nel funzionamento del cambio. Avanzamento per inerzia in discesa, l'energia cinetica viene rilevata costantemente, ciò consente al PPC di stabilire se il veicolo è in grado di raggiungere rapidamente la velocità impostata avanzando per inerzia. Superamento di avvallamenti, negli avvallamenti il PPC sfrutta lo slancio e se necessario interviene aumentando temporaneamente la velocità impostata per accumulare l'energia cinetica necessaria. Superamento di dossi, il rilevamento permanente dell'energia cinetica consente di identificare se la velocità del veicolo è sufficiente a superare il dosso. Una funzione EcoRoll può essere impiegata per ridurre le perdite di coppia in fase di rilascio. Il kit di retrofit PPC può essere installato su New Actros, Santos e Arox, a partire dalla data di fabbricazione agosto 2012 ed equipaggiati con cambio Power Shift 3. Contattate la vostra officina autorizzata Mercedes-Benz Track di riferimento e verificate la possibilità di montaggio sul vostro track. Scoprirete così i vantaggi dell'offerta a voi dedicata richiedendo un preventivo. Transportec 2017 svela le sue carte, grandi brand, ricca offerta merceologica, tante iniziative ed eventi. La manifestazione è pronta a partire a Verona Fiera dal 22 al 25 febbraio 2017, già confermate le novità di DAF, Iveco, Manna e Scania. Tre commerciali leggeri, Fiat Professional, Iveco e Volkswagen. Ricca naturalmente anche l'offerta di allestimenti, furgonature e rimorchi, oltre ad aftermarket e servizi. Ricordiamo che Transportec si svolgerà in contemporanea a Samoter, il salone delle macchine Movimento Terra, e un solo biglietto consentirà di visitare entrambe le fiere, 50% di sconto sull'ingresso per chi acquista online il biglietto su transportec.com. E per ora è tutto, al prossimo aggiornamento, grazie, arrivederci.